Torna a Palermo l'annuale appuntamento con l'esposizione internazionale canina. Sabato 14, domenica 15, dalle 10, nel campo ad ostacoli del Parco della Favorita, si esibiranno i 1.127 cani, rappresentanza di circa 120 razze iscritte all'evento Sicilia Winner, promosso dal Kennel Club Palermo e dal gruppo cinofilo di Caltanissetta, che per la prima volta hanno collaborato per dare vita alle due giornate di passione cinofila. Saranno 18 esperti giudici di fama internazionale, di cui metà italiani e metà stranieri, provenienti da Portogallo, Estonia, Irlandia, Svezia e Lituania, a giudicare i cani che arrivano a Palermo da diverse città italiane ed europee. Sono 498 gli esemplari che si esibiranno nel Parco della Favorita di Palermo, nella giornata di sabato denominata internazionale cinofila di Caltanissetta e 629 quelli della giornata di domenica denominata internazionale di Palermo. Sabato e domenica si svolgeranno anche due prove valide per il campionato nazionale di Agility, anche queste inizieranno alle ore 10. Una novità assoluta di questa edizione prevede la sfida tra i due best in show, i due migliori cani delle due giornate, tra i quali si sceglierà al termine della giornata di domenica il Supreme Best in Show, sia il cane migliore tra tutti gli iscritti alla Sicilia Winner. Comunque a tutti i quali si sceglierà al termine della giornata, i quali si sceglierà al termine della giornata di domenica,